segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te presento alessandro di battista bentornato benvenuto giovanni toti presidente della regione liguria noi moderati anna falcone giurista benvenuto mauro mazza giornalista diretto tg2 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 rai 1 rai sport benvenuto pino strabioli conduttore rai a torre regista teatro con sempre fiori mai un fioraio l'omaggio a paolo poli a milano 27 e 28 maggio alan friedman giornalista scrittore il prezzo del futuro la nave di teseo mauro mazza scuoteva tanto la testa dicevano io ricordavo carlo rossella mio direttore al tg1 poi gli anni passano e segnano in modo diverso le persone evidentemente ricordo la sua elasticità mentale culturale raccontava di essere passato senza fermarsi un attimo a pensare da armando possutta silvio perlusconi mi viene il sospetto che allora fece questo rapido cambiamento per diventare direttore del tg1 evidentemente anna falcone ora cercheremo di capire prima di quali riforme si possono fare chi le fa queste riforme no allora che da se fatta l'idea che purtroppo le riforme istituzionali che a quanto pare non stanno in cima alle preoccupazioni degli italiani continuano a essere di iniziativa governativa a dimostrazione che fa del fatto che il governo che si vuole rafforzare beh di fatto è già fin troppo forte peccato che le riforme che gli italiani vorrebbero parlando di riforme istituzionali sarebbero forse quelle di ridare ai cittadini la possibilità di scegliersi i propri candidati e rappresentanti in parlamento ecco questa riforma con delle indicazioni chiare da parte della corte costituzionale non le fa nessuno nessuno statista vi do un po la scaletta di quello che faremo chi fa le riforme quali riforme vanno fatte e perché di queste riforme si parla ora di battista dove vuole iniziare allora generalmente quando un ministro degli esteri non sa come affrontare la questione migratoria tira fuori il piano marshal per l'africa tagliani lo fa quando un ministro della giustizia non sa minimamente come affrontare i temi i drammi anche della giustizia la giustizia lenta tira fuori alla lotta le intercettazioni quando un ministro della difesa un presidente del consiglio non sa minimamente come affrontare un conflitto cosa che l'attuale ministro della difesa il presidente del consiglio meloni non sanno rispetto al conflitto in ucraina tirano fuori il concetto di pace giusta che non significa niente quando un governo è impossibilitato a fare a mantenere le promesse o perché non vuole o perché si è reso conto di averle sparate grosse o perché non vuole aggredire dei poteri forti in europa o alla nato che oggi sono la stessa cosa tira fuori le riforme costituzionali perché non può fare nient'altro quindi ora staremo le prossime settimane mesi a discutere del bicameralismo presidenzialismo le riforme costituzionali ma domandiamoci ora io mi ricordo floris mesi fa parlavo del post il governo insisteva facciamo questa misura sul post dobbiamo aiutare i commercianti abbassiamo la soglia da 60 a 30 euro ce la faremo poi l'europa gli ha fatto bau alla meloni si sono spaventati ma se lo dico a tutti i cittadini ma se non hanno approvato quella misura sul post per i problemi costituzionali perché manca di potere governo no perché non hanno il coraggio appunto di affrontare determinati poteri ma cosa c'entra la costituzione mauro mazza prima che prima parlava annomerai prego no io credo che ci siano due piani da tenere distinti pur dovendo convivere necessariamente il piano dell'impegno quotidiano di fronte alle emergenze che non devono farci soccombere o travolgere quello delle riforme istituzionali è una prospettiva sacrosanto oggi di vendicarla e indicarla come orizzonte la cosa che mi colpisce sai qual è giovanni e che mentre giorgia meloni dice questa è una cosa che si fa per il futuro dell'italia chiunque debba governarlo un domani dall'altra parte dell'opposizione a sua volta divisa se ha il terrore che se la meloni a governare i prossimi trent'anni sarà sempre lì a palazzo chigi questo che mi fa capire che non si crede nelle proprie forze le proprie essere competitivi replica di battista poi falcone toti scusate però di che cosa del presidenzialismo del poco potere al governo ma scusate il nostro paese che teoricamente una repubblica parlamentare il parlamento ancora un valore quante leggi di iniziativa parlamentare sono state approvate negli ultimi anni di battista e per quale motivo perché il governo già è troppo forte anche per me in virtù della legge elettorale questa la verità perché la maggior parte dei parlamentari non vengono decisi al popolo italiano vengono decisi nelle segretarie dei partiti politici e fino a che non torneremo a un voto diretto c'è una preferenza diretta sarà sempre così domanda il governo è già forte nel nostro paese o no oppure è a paura del bicameralismo di camera e senato sono scemenze queste le sappiamo perfettamente allora toti un elemento cartello 11 l'avevamo visto prima ma è giusto ridiscuterne allora giorgia meloni su tanti temi si è sottratta al confronto con la stampa non l'ha fatto dopo aver varato la delega fiscale il decreto degli aiuti il def le nomine delle partecipate il decreto lavoro quello il primo maggio dopo aver riformato la governance di inps inail enti lirici la proroga della rettavazione l'unica caccetta il presidenzialismo è la più importante la più comoda toti falcone sicuramente per gli italiani l'abbiamo visto prima mentre aspettavamo ad entrare non è la più importante io credo che sia importante per il paese poi sulle tattiche di comunicazione di giorgia meloni non so che dire io ho fatto il mestiere che fa lei per tanto tempo probabilmente palazzo chigi alester campbell di blair non c'è in questo momento diciamo potrebbero fare qualche cosa di più e di meglio però vorrei ricordare due cose per giustizia l'unico partito che ha presentato un disegno di legge per introdurre le preferenze stato fratelli italia nella scorsa legislatura è stato l'unico che le ha messe io sono favorevole le preferenze mi sono candidato solo dove i cittadini mi potevano votare al parlamento europeo e in regione liguria dove c'è il volto diretto ma sono state abolite non dalle segreterie dei partiti che poi ne hanno fatto tesoro ma per evitare i potentati locali e tutta quella roba lì il nostro abbioli dice alessandro di battista ma che altro potere vuole questo questo governo è così forte guardate le nomine che hanno fatto non solo hanno già fatto delle nomine molto importanti e parliamo di eterna e nel eni poste leonardo e sono in arrivo i vertici di inesina il guardia finanza cassefositi e prestiti rai e c'è pure diciamo ora non permetterla in imbarazzo perché si parla anche di rai ma addirittura ci sono state delle norme fatte in base alle necessità delle persone che dovevano essere nominate in cui si è giocato un po sull'età allora i direttori degli enti lirici si è abbassato il limite per andare in pensione a 70 anni i medici famiglie pediatriche servono perché c'è il covide da 70 a 72 i magistrati il ministro magistrato si passa a 70 a 72 nelle pubbliche amministrazioni in particolare il presidente dell'instat non si va in pensione mai a nessuna età perché attualmente il presidente che piace a questa maggioranza di governo ne ha 74 anni un governo che ha questo potere ma sul serio cerca l'investitura popolare del presidente strabioli sul clima sociale diciamo non sulla politologia sul clima che si vive e poi alan friedman vedo friedman pronto per cui fra pochissimo lascerò la parola a lui io questo programma lo guardo da casa ma da qui ho paura vedo l'irruenza di di battista c'eravamo incontrati a teatro a vedere grillo con lei è cambiato dall'epoca no no lo vedo non lui ma dall'epoca di grillo cosa è cambiato in italia e sono cambiate molte cose sono cambiate molte cose stanno cambiando lo stiamo vedendo ci ha letto adesso lei floris le varie cose e giorgia meloni che impressione le fa così mi piacerebbe sentirla parlare di più mi piacerebbe conoscerla meglio mi piacerebbe capire cosa è rimasto di quella giorgia meloni che ricordavamo che ormai nel nostro immaginario la giorgia meloni che era all'opposizione e capire di più della giorgia meloni che oggi è ricopre un ruolo istituzionale mi sembra si si scopra meno ecco la trova un po nascosto guardinga guardi lei che impressione si è fatta della giorgia meloni di oggi falcone purtroppo che incarni una destra vecchia che non abbia un'idea generale di paese che si sia scontrata con le difficoltà del governo e che scontrandosi con l'impossibilità di dare dei risultati concreti su quelle che abbiamo visto sono le priorità del paese ancora una volta punta il dito verso la costituzione è uno schema che abbiamo già visto in passato e con il quale ci confronteremo con chi quando l'abbiamo visto beh anche con renzi l'abbiamo visto e gli italiani hanno dimostrato nei referendum che se c'è una cosa a cui tengono particolarmente è proprio la costituzione italiana ecco noi ancora uno statista che si sia preso la briga di attuarla la costituzione a partire dalla sovranità popolare che insisto si esprime nel parlamento non in un premierato forte io invito un qualsiasi insomma politico a individuare quel paese in cui un premierato forte abbia risolto i problemi che abbiamo noi che abbiamo noi in italia però mi perdoni sono vent'anni che partiti politici e governi molto diversi da loro governo d'alema ha fatto la riforma del titolo quinto ci ha provato berlusconi è stata cancellata dal referendum ci ha provato renzi ora ci prova la meloni è possibile che anche la meloni non ce la faccia ma se tutto questo arco di tempo e tutte queste forze politiche hanno ritenuto che qualche riforma ai meccanismi non ai valori della carta costituzionale forse fosse utile farlo è un po come quello che vanno ora è un po come quello che va contro mani in autostrada e penso che siano tutti gli altri che vanno nel senso giuro di diritti fondamentali come la salute l'abbiamo visto ma qua stiamo parlando con l'altro la meloni ha messo sul tavolo 1 2 x come si fa al tot calcio ha messo il premier atto il presidenzialismo e il semipresidenzialismo più c'è l'autonomia delle regioni questo però potrebbe anche andare a sostegno della tesi scusate abbassiamo lo studio potrebbe anche andare a sostegno della tesi che guardate per me va bene qualsiasi cosa purché se ne parli perché non ci si occupi di economia allora alan friedman arriveremo a che cosa fare parliamo di chi lo fa parliamo di questa maggioranza di governo la grande polemica di questi giorni è stata sulla diciamo sul governo francese che evidentemente anche loro in difficoltà evidentemente con la necessità di stigmatizzare il ruolo della le penne in qualche modo individuano in giorgia meloni il diciamo il tratto su cui giocare attenti che se no finisce anche da noi come finita in italia vi faccio vedere dalle elezioni di qualche mese fa ad oggi come giorgia meloni naturalmente un sunto è stata descritta da appena eletta all'altro ieri in plena crisi migratoire meloni n'a rien trovato di più che di fare la festa a l'anniversario surprise di son pote Matteo Salvini e Berlusconi è stata là anche una bella giornata che si è terminata in karaoke madame meloni choisi per le mie di madame le pen è incapabile di regla il progetto migrato su cui è stata stata in l'extrata un vice che è quello di mentire a la popolazione allora friedman chi va a riformare la nostra costituzione posso dire flores che la costituzione secondo me non ha bisogno di essere riformato se questo vuol dire perdere molto tempo in un'operazione complessa che dura diversi anni per introdurre il presidenzialismo o l'elezione diretta del premiariato ma per un motivo semplice e questi non sono a mio avviso ma secondo me anche per la maggioranza italiani non sono le priorità del paese che sono lavoro sono l'economia sono la capacità di spendere i 200 miliardi dei soldi europei disponibili sono la capacità e la volontà di portare avanti anche le riforme non quelli sul Quirinale o il presidente questo lascia stare ma proprio le riforme necessarie per far erogare i soldi perché flores 40 miliardi di euro all'anno da questi fondi europei e la differenza per l'italia di una crescita di uno e mezzo due per cento oppure un prefisso telefonico 0,5 per cento allora alessandro di battista la concretezza lei si oppose duramente anche alle riforme di renzi qui parlava quando renzi ha abbandonato la politica no perché ha perso il referendum giusto era quel giorno la e ancora parlano questi e la loro parola è zero e ancora parlano oggi stiamo a ascoltare le dichiarazioni in italia viva sulle riforme costituzionali di gente che doveva abbandonare la politica in caso di sconfitta referendum veramente hanno la faccia come il deretano ma questo è un altro discorso e sì certo mi opposi perché era un altro buffonata fatta essenzialmente come distrazione di massa perché il problema io ho fatto il parlamentare dell'approvazione delle leggi delle leggi importanti sono i conflitti interesse prima lei presidente diceva se tutti ci hanno provato quindi ci hanno ragione averci provato tutte le forze politiche lei ha citato non hanno mai voluto approvare una legge sul conflitto interesse che significa questo paese non ha bisogno di legge sul conflitto interesse quindi il problema è che appunto determinate leggi non sono state approvate perché la classe politica non conveniva perché la classe politica oggi in virtù di una legge elettorale che è una sorta proprio di come dire di coercizione nei confronti dei parlamentari comanda le forze politiche i parlamentari a bacchetta i parlamentari hanno paura di non essere ricandidati la legge elettorale con è un altro discorso io ho detto perché per me per la mia esperienza per quale motivo determinate leggi non vengono approvate perché il parlamento ha perso la sua forza e importanza dato che di fatto oggi già viviamo in una repubblica governatina guardi la seguo come ragionamento ma non è detto che una riforma costituzionale se le forze paralitiche si mettono lì certo ma io non ho detto ad esempio l'autonomia l'autonomia a cui molti sono contrari io penso che rafforzi invece la volontà popolare votare delle regioni più autonome Mauro Mazza diceva da Carlo Rossella c'è qualcosa nel cocktail nel cocktail Meloni c'è qualcosa di fascista c'è qualcosa che non torna c'è qualcosa nel modo in cui guardano in cui parlano c'è qualcosa che sfugge e come si dice la cattività degli occhi di chi guarda forse il fascismo c'è chi dice c'è fascismo probabilmente no però fammi dire una cosa a me sorprende il ragionamento che ha una sua logica dice non è un'urgenza la riforma della costituzione ma anche studiare lavorare rispetto al mangiare tre volte al giorno non sono urgenze però è giusto studiare proprio guardare al futuro della propria famiglia per se stessi quello che sta facendo sta tentando di fare il governo si guarda al domani dell'italia ma non trascurando le emergenze e le urgenze del presente il domani dell'italia diamo il benvenuto